Il master accademico di NABBA del campus di Roma Screenwriting for Series è pensato per formare tutte quelle figure che fanno parte della filiera dello sviluppo dell'opera audiovisiva seriale. Se un tempo lavorare nello sviluppo significava fare lo sceneggiatore, in questo momento invece ci sono tantissime altre figure che fanno parte del processo, dallo story editor, script consultant, head of development, quindi il capo dello sviluppo, o anche per esempio i producer e i creative producer che sono appunto quelli che vanno a cercare l'idea e che dialogano con la produzione. L'obiettivo del master è proprio accorciare quella che è la distanza che attualmente c'è tra i diplomati in un'accademia e quello che poi è il mondo professionale. Accorciare questa distanza è sicuramente una sfida e per farlo ci siamo confrontati con due importanti associazioni sul territorio italiano, la Writer's Guild Italia, che è il sindacato degli sceneggiatori e delle sceneggiatrici, e Women in Film and Television Italia. Siamo molto felici di collaborare con NABBA per il master in Script Writing for Series di prossimo arrivo. Introdurre la lente di genere nella cassetta degli attrezzi dell'autore e dell'autrice è oggi una necessità, una necessità dettata dal mercato stesso ed è una necessità sociale e culturale. Quindi poter lavorare con NABBA, con nuove generazioni di autori e di autrici, è un'opportunità imperdibile. Pensiamo che la ricchezza dell'offerta del master sposerà la ricchezza del mondo reale e questo ci permetterà di avere storie sempre più ricche, più internazionali e più amate. Quello di cui abbiamo bisogno è la possibilità di riuscire a collaborare con realtà come NABBA, perché questo fa sì che la preparazione degli studenti sia già di alto livello, perché hanno già tutti gli strumenti e le conoscenze, sia per quanto riguarda la contrattualistica, sia per quanto riguarda la possibilità e la capacità di sapersi muovere all'interno del mercato. Questo dà loro tutto quell'insieme di capacità che normalmente si acquisirebbero in tanti anni di esperienza, per cui è un vantaggio competitivo enorme in un mercato che continua a mostrare sempre nuove sfide di livello sempre più alto. Grazie. Grazie.